Vorrei ricordare che la Merkel ha appena perso Berlino, che Sarkozy non ha ancora dato la sua ricandidatura all'Eliseo, che le banche francesi hanno molti più problemi insieme a quelle tedesche e delle nostre italiane, ricordo quanto hanno in pancia sia le banche francesi e le banche tedesche dei titoli grechi, dei bond grechi, cosa che grazie a Dio l'Italia invece ne ha voluto. Sono qua con orgoglio da italiana, perché penso che nessuno debba darci lezioni di quello che dobbiamo fare o di come ci dobbiamo comportare, perché la Merkel vi ricordo ha appena perso Berlino, Sarkozy non ha ancora dato la sua ricandidatura all'Eliseo, le banche francesi, le banche tedesche sono piene di bond, di titoli grechi, sono messi molto importante dei titoli grechi dei bond grechi, dei titoli grechi dei bond greci, dei titoli grechi dei bond grechi,utedai dell'Eliseo.